Musica Musica La signora Maria non è solo frisse di cavalli, è un'appassionata e quindi nella costal sono frizzoni, bungherosi e anche mento nero. La carrozza, abbiamo già detto prima, una missarda in tinte originali. Questo è un ennio antico, signori, eh? Potete ammirarlo perché è una delle carrocce più belle. Oltre all'eleganza dei cavalli, non si sono un equipaggio che posto sul retro della carrozza, nonché della eleganza del giovanissimo groom. Un bellissimo applauso a tutti questi bambini. Cristina Ponzetto ci presenta questo bellissimo frizzone, nuovamente con la staccia collana, finimento bicolore. Il colore, proprio perché si può notare il colore molto corpente, proprio caratteristico di questa razza. Questi cavalli nascono col manto nero e poi man mano che invecchiano come gli uomini, il manto si schierisce fino a diventare completamente bianco. Anche Sambone Rosario presenta un break di presentazione con un solo passeggero sul retro. Grazie.